Buongiorno, sono Franco Scepi, sono l'autore di quest'opera e come allievo di Andy Warhol e allo stesso tempo inventore di una strategia che si chiama Hover at Art, arte sulla comunicazione, da tanti anni ho ripercorso il concetto della comunicazione pubblicitaria in una nuova funzione. In questo caso ci troviamo di fronte al monumento che ho realizzato per la società Pomeri Champagne e qui abbiamo una ricreazione legata a un sogno, quello che ebbe Holdenburg quando ingrandì tutti gli oggetti quotidiani.